Ciao, sono Francesca. Ciao, sono Massimo. Abbiamo preassemblato tutti i telai del fotovoltaico e abbiamo cablato tutti i teli. Ora siamo pronti per portare il telaio in copertura e montare tutto il fotovoltaico. Si spera che entro stasera? Entro stasera ce la faremo. Si, si spera, con la luce, perché ci stiamo facendo un'abbronzatura poco piacevole. Ui, va un po' caldo però. Daje Versailles. Daje Versailles. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS